Bardi distruggere! Tadahn! Magia! Magia! Mystery Teen Squad, benvenuti in questo! Calma. Non è il momento adatto per fare l'info. Mystery Teen Squad, benvenuti in questo! un nuovissimo video io sono Sofia e questo è lo speciale sono dei tamburi mille iscritti sono felicissima di aver raggiunto questo traguardo qui su youtube perchè così so che i miei contenuti piacciono e io piaccio alla gente volevo ringraziarvi veramente di cuore per questo meraviglioso traguardo non so che altro dire posso solo spoilerarvi come nello scorso vlogmas o video di inizio anno video di inizio anno proprio qui o qui non mi ricordo però penso qui a sinistra che per voi dovrebbe essere a destra perchè è tutto a specchio linkerò lì il video di buon anno dove vi dirò le cover cosa c'è? sono il vencino di sole quindi dopo questo video speciale mille iscritti usciranno tantissime nuove cover tra cui un video dedicato a due ragazze e il loro padre per una mia carissima amica coltenevo molto non posso più di nient'altro posso solo ringraziarvi e dirvi di iscrivervi al canale e lasciare un bel like quando questo video raggiungerai 100 like vi farò vedere come ho montato creato che ha creato? alla fine era solo da montare aggiungere decorazioni palline lucine la punta dovevo metterla dopo che l'albero si incinava davanti ho messo una tendina bianca e un fiocco rosso il presepe non l'ho inquadrato nel video la farò adesso per quanto riguarda la beppana non ho fatto proprio nessuna foto perché sono già mangiato tutti i dolcetti e qui ci sono questi disegnini veramente meravigliosi scusate la condizione delle unghie ma ho dovuto toglierle prendevano un colpo le unghie non si staccavano questa è la beppana e qui sono tutti i regali queste se non mi sbaglio sono quelle caramelle americane che appellano all'albero e penso siano di menta perché una persona che li aveva provati mi diceva che erano di menta io sinceramente non li ho mai assaggiati ma se dovesse assaggiarli ve lo farei subitissimo sapere traguardo dei mille iscritti youtube grazie mille youtube gentilissimo mi ha attivato la community e penso proprio che pubblicherò tanti post favolosi 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 e volevo ricordare di seguirmi su instagram mi trovate come sophie underscore meloni underscore richiedetemi anche in tanti l'amicizia su facebook mi trovate come sophie meloni e andate a seguirmi sul mio tiktok perché pubblico dei tiktok a volte veramente esilaranti insomma tanto tanto divertimento e pazia non so cosa raggiungere se non mandare un bacione bene questo video finisce qui io vi mando ancora un altro grossissimo bacione e noi ci vediamo quando questo video avrà raggiunto i 100 like ovviamente sempre di martedì e sabato e ogni tanto il giovedì questo che state vedendo adesso che ho messo per fare il voice over questa clip è del prossimo vlog perché io sto registrando da un mese e volevo fare un vlog un po' particolare però quando questo video appunto raggiungerai i 100 like anche 200 e ve lo porterò e lo vedrete ciao ciao ciao